Le dimissioni del cardinale Reinhard Marx da arcivesco di Monaco tengono banco su tutti i giornali oggi e specialmente quella frase in cui dice che la chiesa è a un punto morto ovviamente le ragioni che dà sua eminenza sono diverse da quelle che darei io ma qui mi sembra che gli opposti quasi si toccano cioè ci si rende conto che esiste un problema grave e l'aspetto tremendo degli abusi sessuali che viene menzionato dal cardinale è solo un elemento di questa crisi la soluzione che il cardinale Marx intravede è quella della tanto decantata via sinodale io non so se questa sia veramente la soluzione ma sono anche d'accordo con il cardinale quando dice che stiamo parlando di una crisi sistemica in effetti non è un problema soltanto morale che pur certamente esiste ma c'è un problema di potrei dire autocoscienza della chiesa come la chiesa vede se stessa e quale deve essere il suo ruolo nel mondo si pensa ancora che la chiesa annuncia la verità con la v maiuscola e non semplicemente un'opinione perché fra queste due cose cioè fra la verità con la v maiuscola e un'opinione esiste una differenza che definirei veramente abissale i partiti politici offrono idee ed opinioni ma la verità con la v maiuscola ha ben altro peso perché se rincorre il mondo vuol dire annunciare questa verità allora il mondo stesso può offrirci una vita più facile e comoda senza passare per la chiesa se io aderisco alla chiesa è perché c'è qualcosa lì che il mondo non mi può dare deve esistere un'opposizione fra chiesa e mondo il cardinale Marx, giustamente deplora la gestione del problema degli abusi sessuali ha ragione, è una macchia terribile ma come viene gestito da decenni il problema della verità? qui sono d'accordo con il cardinale siamo ad un punto morto il pensatore romano Amerio diceva che la chiesa però non va perduta nel caso che non pareggiasse la verità ma nel caso che perdesse la verità la chiesa peregrinante è da se stessa per così dire condannata alla defezione pratica e alla penitenza oggi la si dice in atto di continua conversione ma essa si perde non quando le umane infermità la mettono in contraddizione questa contraddizione è inerente allo stato peregrinale ma solo quando la corruzione pratica si alza tanto da intaccare il dogma e da formulare in proposizioni teoretiche le depravazioni che si trovano nella vita ecco, questo punto che tocca Amerio con grande chiarezza andrebbe affrontato nel suo discernimento dal cardinale per chiedersi se questo punto morto non sia perché abbiamo fatto poco per adeguarci alle idee del mondo ma se abbiamo dimenticato chi siamo cosa facciamo e dove andiamo